Una giornata decisiva, si concludono nella mattinata di lunedì 22 a Palazzo di Città Tarato le consultazioni del sindaco Rinaldo Melucci con i partiti e i movimenti dell'attuale maggioranza. Alle 9 appuntamento con il gruppo con presente con Rocco De Franchi, gli assessori regionali Lopane e Dell'Inoci, il presidente Emiliano in collegamento, il presidente del Consiglio Comunale Piero Bitetti, la consigliera comunale Stefania Fornaro, a seguire l'appuntamento con i vertici del Movimento 5 Stelle rappresentato in consiglio da Mario Done. Una tornata di incontri, decisa dal primo cittadino, per verificare tenute possibili modifiche della compagine governativa. In ballo, soprattutto dopo l'incontro romano con Matteo Renzi, c'è l'ingresso in maggioranza di Italia Viva e dei consiglieri Massimiliano Stellato e Carmen Casula, ma anche di patto popolare con Salvatore Brisci. L'idea di una possibile sostituzione dentro Italia Viva, fuori 5 Stelle, è stata stoppata dal PD, favorevole solo ad un allargamento della maggioranza. Anche Conne vorrebbe continuare con la maggioranza uscita dalle elezioni senza variazioni. La coalizione che governa la regione e il campo largo vincitore alla provincia sono il punto di partenza per l'assessore comunale Mattia Giorno. Stellato, infine, invita tutti a superare gli attriti e chiede un confronto tra PD 5 Stelle e area centrista per costruire un laboratorio politico. Gli ultimi colloqui chiariranno anche l'orientamento del sindaco su cambi di assessorati e azzeramento dei CDA delle municipalizzate.